Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, roccaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le faglie immobili, mi sono recato personalmente nel mercato locale dove mi è stato suggerito un prodotto che susciterà l'interesse di ogni appassionato dei trading car game. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia il Fortress Car Drawers della Dragon Shield. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate, senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Il prodotto si presenterà minimale in colorazione total black e presenterà in rilievo lucido una viverna con le ali spiegate che si mostrerà in tutto il suo splendore sul lato sinistro ed il solo logo della casa madre sia sul lato destro che nella parte alta sul dorso del prodotto. Mentre frontalmente, posti uno sopra l'altro divisi da due sezioni trasversali, ci saranno tre cassetti forati rifiniti da un cerchio di metallo con anche qui a rilievo lucido la tipica cornice della Dragon e due linee vuote dove potrete all'evenienza andare a scrivere il contenuto del cassetto stesso. All'interno di questi ultimi potranno essere contenute più di 435 carte l'uno con bustina protettiva singola ed ogni unità interna avrà dimensioni pari a 7,8 cm di larghezza per 28 cm di lunghezza e 10 cm di altezza mentre il corpo principale avrà una dimensione totale pari a 8,8 cm di larghezza per 28,4 cm di lunghezza e 31,8 cm di altezza. Tornando ai tre scompartimenti sarà presente anche una spugna quadrata che fungerà da divisore così potrete mettere ordine alla vostra collezione o ai doppioni che avrete a disposizione così da recuperare tutto l'occorrente nel modo più agevole possibile. Disponibile anche in tonalità bianca questa versione sarà in tutto e per tutto la gemella a livello strutturale della versione nera con l'unica eccezione che a differenza della di Verna qui sarà presente un drago ruggente visibile sempre attraverso un rilievo lucido. Costruito in cartone spesso il Fortress rappresenterà una validissima soluzione per riordinare il gran numero di carte sparse in ogni dove che sia al vostro ufficio o l'abitazione di proprietà avendo un sistema di archiviazione davvero compatto e soprattutto elemento non da sottovalutare capiente. Elegante e discreto inoltre potrà essere posto in uno scaffale di libreria così da avere ogni singolo elemento di cui avrete bisogno a portata di mano. Basterà aprire uno dei cassetti e ricercare la carta che vi interesserà. Disponibili in mercato ad un prezzo indicativo di 30 euro queste cassettiere andranno a rispondere a tutte le esigenze di spazio generandone di nuovo in altezza consentendo così ad ogni appassionato di trading card game di stoccare le proprie carte in un luogo apposito semplici e funzionali. Prima di concludere volevo ringraziare i signori di Fantasia Store per avermi dato la possibilità di parlare dei prodotti mostrati in questo contenuto. Vi lascerò ogni riferimento al loro negozio e agli articoli in questione come sempre in descrizione. Bene è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!